per il nollie flip no slide bisogna padroneggiare il nollie flip e il nollie no slide approccia l'edge che ti sta alle spalle praticamente parallelo la posizione dei piedi uguale al nollie flip il piede davanti lo metti nel centro del nose e il piede dietro lo metti vicino alle viti angolato con il tallone sporgente a lato come nel nollie flip come nel nollie no slide cerca di schioccare e di far fare un flip alla tavola al di sopra del bordo dell'edge in questo istante girati verso l'edge per agganciare il no slide quando la tavola avrà finito la rotazione del flip e il nose al di sopra dell'edge spingi in giù il nose col piede anteriore e sposta tutto il peso sulla gamba davanti sei arrivato a questo punto il resto uguale al no slide alla fine spingi la tavola con il nose raddrizzandola in avanti e prosegui puoi anche provare a fare un pop out dall'edge schioccando leggermente sul nose